salve a tutti amici sportivi bentornati sul canale uberigno siamo sempre qui con counterspy giorno 8 ormai ci mancano tipo un paio di missioni abbiamo finito allora vediamo cosa ci offrono i russi ci offrono quattro piani di lancio e dei collezionabili schifosi mentre invece americani ci offrono tre pagine di formula allora siamo tutti quanti ad f con 3 io proverei i russi perché alla fine dei piani frega cazzo eccoci qui vedo che abbiamo anche un rivale nict 277 che non abbiamo niente da prendere andiamo nessuno ad attenderci fuori sembra poco sorvegliata allora sì 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 questa costruzione mi sembra di averla già vista simile e ce lo siamo fatto anche questo ammazzo qua c'è della vita di sopra assolutamente che ci possono essere cose utili e poi dobbiamo battere nict 277 con quei sui 29 schifosissimi 1000 punti che ci fa ridere direi che non c'è più nessuno qui questo qua è il punto dove siamo arrivati prima non abbiamo perso neanche una goccia di sangue perciò possiamo tranquillamente no giù ok andarcene prossimo livello ricordiamoci che qua ce ne sono quattro di questi questi cosi quindi bisogna prenderli tutti saranno nascosti visto che ci sono pochi livelli vieni qua un pochi movimenti fa questo tizio no va bene dai dai vieni vieni che sei mio sei mio e sono tre teniamoli bene a mente che sono tre cacchio dai vieni qua la testa c'è un altro che mi sparo qua sotto e come faccio a vederlo questo amico mio lo faccio a vederti oh io e ti picchio eh c'è niente da fare fatto sprecare un miliardo di colpi di proiettili importantissimi allora andiamo su a prenderci un pochino di soldini scusate se ogni tanto sto in silenzio ma sono abbastanza concentrato perché qui sono ostici eh invece ci sono quelli con i caschetti colorati o non vanno giù mai devi sparare un paio di colpi per togliergli il casco poi devi sparare un paio di colpi per non so che cosa e sono quattro oh gesù così eh sì eh sì amico mio eh sì cari mie oh cacchio non si vede qua oh questi quattro un po' chiameranno chiameranno i rinforzoli andiamo a fargli il giro alle spalle non si può fare il giro alle spalle di questi male questo è male eccolo qua ragazzi ragazzi oh mamma mia meno male che ho usato la pistola non silenziata eh sennò mi sarebbero partiti un miliardo di colpi presto qui c'è qualcosa sì eh lo sapevo io che nascosto c'era qualcosa allora qua ce n'è uno intanto eh e voglia trovarlo giù di sotto qua non ce n'è altri posti andiamo su sembra ad aver visto delle scatoline delle qualcosa qua non c'è niente andiamo bene a esplorare lì sopra c'è da arrampicarsi qui non c'è niente oppa mmm però vedo a sinistra che c'è qualcuno non ti girare stronzo se non erro sono tipo cinque questi eh non si poteva farlo silenziosi quello non si poteva proprio qua ce ne saranno un miliardo ancora oh non ce ne sono bene ci sono alcuni di quei mille sì quanto ci da? 500? sì oserei dire di sì 150 6600 ancora un paio di cento e il nostro rivale ha perduto tac uulala allora dai allora qui c'è gli altri 500 andiamo subito di farci questa poi andiamo subito di farci questa e poi noi ci facciamo così dai fai fuori qualcuno male 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 le telecamere di sorveglianza blindate possono danneggiare solo con gli esplosivi eh sì lo so salute bassa grazie salute bassa grazie lo ben so un altro benissimo è abbastanza allarmato ma non allarmatissimo giù c'è da vivere giù c'è la vita e avrei potuto farlo eh avrei potuto farlo ma avevo troppa paura che si girasse e mi sparasse due colpi e sarei stato mortissimo mortissimo allora sopra c'erano anche dei soldini che non ho ancora preso molto bene benissimo molto bene benissimo allora qui dobbiamo procedere a destra aspettiamo che passi un ca... no però no però di là no non mi piace di là io voglio farla e così ne ho fatto un altro ne ho fatto un altro ma qui dai tolcani znova vieni qui che ti faccio ok sei girato a destra allora questi due qui li ho capiti si 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 incrociano si guardano adesso quello destra eccolo qui vediamo se riusciamo a fare una bella roba eh riusciamo a prenderlo e a farci il trofeo delle dieci uccisioni una sorpresa sorpresa qua dentro ci sarà sicuramente qualcosa di importante eccolo assassino silenzioso scaltri come faina ragazzi abbiamo preso anche questo trofeillo non mi ricordo però più se abbiamo usato si abbiamo usato tutto qua procediamo al passo successivo ecco eccolo qua qua il death con 3 è quasi finito però eh brutta storia quindi un armadietto ci da un po' di soldini qui c'è ancora della brutta gente eh questi qua se ne accorgeranno se usiamo questo se ne accorgerannoissimo anche questo no questo forse no però eh ce ne manca sempre uno allora qui non ci si può ne arrampicare ne fare niente procediamo vediamo se riusciamo con la nostra arma a farli ammazzare tutti uno con l'altro allora ce ne serve uno grosso io vorrei troppo usare quello con i lanciamissili perché quello lì ragazzi spacca il culo a tutti ma anche questo qua blindato eh Siamo morti siamo morti lo sapevo che eravamo morti però siamo a death con 2 quindi meglio di un calcio in culo eh ve lo dico subito allora tu qua sotto ecco questi due ce li siamo fatti quindi possiamo già usare i nostri due computerini cioè il secondo che ci mancava non vale che abbiamo fatto un sacco di soldi questa missione perché abbiamo usato tutte le armi ci costerà un botto per comprare le munizioni madonna benedetto eh Johnny si si vieni qua Johnny schiaffi in faccia ta Johnny muori infame ragazzi ce l'abbiamo fatta con un death con 2 schifoso ma ce l'abbiamo fatta dunque ci becchiamo per il giorno 9 che se ci danno quattro quattro fogli da prendere credo che sia l'ultimo ok? andremo andremo a vedere il lancio del missile ciao ragazzi ci vediamo al giorno 9 ciao